Non ho detto niente, loro già lo sanno come interpretare certe situazioni perché lo hanno dimostrato. Lo unico che posso dire è ringraziare alla città, soprattutto ai giocatori, a tutti i collaboratori del magazziniere, lo staff medico, a voi due, al team manager, a tutti, per l'appoggio, per l'accompagnamento che abbiamo avuto e complementi al Matelica. Il Matelica ha stato la squadra sorpresa del campionato, ha meritato dove è, e niente, però niente, Fede, grazie di tutto e, bueno, veremo il futuro. Grazie.